Federico Mollicone, ne ha facoltà. Prenda posizione sul tavolo dei nove. Prego, a lei la parola, deputato Mollicone. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sottosegretario Guerra. Quella che stiamo vivendo è un'espansione senza precedenti del nostro mondo digitale. La sfida cruciale della digitalizzazione di ogni attività, non solo economica, produttiva, richiede una risposta consapevole, collettiva e organizzata, in cui il ruolo del potere politico, statuale, è indispensabile e cruciale. Una buona politica economica deve saper coniugare i fattori tecnologici abilitanti al superamento dei limiti culturali e burocratici, con una riflessione degli interessi strategici in ambito geopolitico. Ho voluto scrivere questa mozione e abbinarla, insieme al collega Butti, a quella di maggioranza, perché l'innovazione deve essere una battaglia trasversale e anche la destra italiana ha una sua precisa visione su cui confrontarsi. La mozione presentata da Fratelli d'Italia vuole introdurre, per dare centralità nelle scelte di politica industriale, l'integrazione del documento di economia e finanza con appositi indicatori del livello di digitalizzazione e innovazione, l'equivalente dell'indice DESI, sulla base dei dati forniti dall'Istat, con monitoraggio annuale dell'andamento dello sviluppo tecnologico e della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Già nel 2016 il legislatore ha introdotto nel documento di economia e finanza e conseguentemente nella legge di bilancio indicatori di benessere eco e sostenibile volti a valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale e ambientale. Chiediamo inoltre la definizione del più stretto arco di tempo in piena correttezza e totale trasparenza dei contenuti e delle modalità con cui affrontare il tema della ripartizione e dell'assegnazione delle risorse finanziarie del Recovery Fund destinate al settore digitale e al comparto digitale con il completo coinvolgimento del Parlamento. Infine chiediamo al Governo di adottare iniziative anche di carattere normativo per la semplificazione del Governo e dell'amministrazione delle politiche pubbliche per l'innovazione e la digitalizzazione con una governance unitaria che possa tradurre in azioni concrete le scelte di politica per l'innovazione con meccanismi di misurazione della realizzazione degli obiettivi. Vedete la crisi sanitaria generata dall'emergenza Covid-19 ha mostrato in tutta la sua pervasività l'importanza che l'innovazione riveste nella vita quotidiana rivelatasi vitale per la continuazione delle principali attività. In Europa inoltre si sta affermando sempre più nel dibattito pubblico il tema della sovranità digitale che per primi come Fratelli d'Italia abbiamo introdotto in quest'Aula all'inizio della legislatura con l'approvazione di un documento da parte del Governo nell'ambito di una legge di bilancio. Un concetto legato alla tutela della sovranità nazionale all'autonomia delle potenzialità tecnologiche nazionali al ruolo geopolitico dell'Italia e dell'Europa e alla protezione dei diritti individuali dello spazio del web i cosiddetti diritti digitali della persona. E' fondamentalmente centrale mettere al centro dell'agenda politica le politiche per l'innovazione come dovrà essere con l'erogazione dei fondi del Recovery Fund. Ogni anno la fotografia delle classifiche citate anche dal collega Invidia nell'indice desi è impietosa. Nel 2020 la Commissione Europea l'Italia risulta appunto venticinquesima posizione su 28 degli Stati membri dell'UE davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria. Il punteggio italiano è di ben nove punti inferiore alla media dell'Unione Europea 43,6 contro 52,6. Oggi il Presidente Conte ha parlato del ruolo della rete unica e della necessità di cablare le aree bianche e ridurre il divario digitale. Il Ministro Pisano qualche mese fa in una divisione parlò di un'affascinante Repubblica Digitale la cosiddetta Strategia 2025. Come spesso accade la notorietà crea un'attenzione da parte della politica che cerca di rigenerare la propria immagine avvicinandosi a temi percepiti come di tendenza e così si moltiplicano i tentativi di emulare i casi di successo. Va detto dietro le parole del cloud della nuvola non abbiamo ancora compreso la linea del governo e della maggioranza. sulla rete unica il perimetro societario computer quantistici intelligenza artificiale infrastrutture cloud investimenti nel cyber security e nelle competenze digitali blockchain e 5G che linea ha il governo su questo? I dati mostrano l'Italia è un paese del G7 fuori dalla competitività globale. L'indice DESI ci dice che l'Italia resta ancora troppo indietro sulla banda larga con solo il 30% rispetto alla media dell'Unione Europea del 44% sulla banda larga. L'infrastruttura di rete italiana ha mostrato di reggere ma non è sicuramente abbastanza. Non possiamo pensare alla digitalizzazione della pubblica amministrazione all'obbligatorietà dello speed mentre la rete internet lagga come si dice in gergo è in ritardo o cade come è avvenuto durante il lockdown quando venne rilasciato un noto videogioco. La costituzione della rete unica è sicuramente un passo avanti come abbiamo chiesto già in una mozione ma sottolineiamo che la presenza di Open Fiber dovrà garantire la sicurezza dei cavi in fibra forniti pensate un po' da ZTE azienda statale cinese con rischi per la sicurezza nazionale soprattutto per i dati che passeranno su capi considerate le backdoor cinesi e questo non lo diciamo noi ma lo dice l'America lo dicono i grandi osservatori lo dicono i servizi italiani e non è un caso se ci sono grandi aziende del settore italiane che cominciano a rivolgersi a fornitori europei mentre incredibilmente Open Fiber che dovrebbe essere un po' l'emanazione diciamo di questa idea di stato digitale in realtà ha come fornitore unico la ZTE quindi di fatto il governo cinese perché sappiamo che in ogni grande azienda cinese c'è un rappresentante del governo cinese conosciamo bene la legge per la sicurezza nazionale cinese appunto gli obblighi delle aziende di collaborare con i vertici militari e politici approvata nel 2017 da un'elaborazione sui dati desi da cui sono stati sviluppati indici regionali tutte le regioni italiane si posizionano sotto la media europea la regione più digitale è la Lombardia seguita da Lazio Emilia Romagna provincia autonoma di Trento Liguria Toscana e Piemonte e per questo abbiamo chiesto più volte che ai presidenti di regione fossero dati poteri straordinari per la digitalizzazione come commissari senza dimenticare i processi di impegno e spesa delle risorse per l'agenda digitale dal 2014 al 2020 vedete l'Europa ha messo a disposizione complessivamente 11,5 miliardi di euro circa un miliardo e 65 all'anno e l'Italia a fine 2018 ne aveva speso meno del 16% tanto c'è da fare anche sul capitale umano l'alfabetizzazione digitale è molto bassa il piano nazionale scuola digitale è fermo per mancanza di fondi paradossalmente l'infrastruttura di sostegno alla ricerca e allo sviluppo colleghi è molto debole colleghi la governanza dell'innovazione è confusa e frammentaria la Corte dei Conti ha indicato come l'istituzione del Ministero dell'innovazione del Dipartimento per la trasformazione digitale chiamato a garantire la realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana in coerenza con l'agenda digitale europea e ad assicurare lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale nonché il coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al perseguimento degli obiettivi di governo in materia di innovazione e digitalizzazione tutto questo rischia sovrapposizione di competenza con l'Agenzia per l'Italia digitale soggetto responsabile dell'attuazione dell'agenda digitale e il dipartimento della funzione pubblica nel suo attuale ruolo di indirizzo coordinamento e monitoraggio dello Stato di attuazione della strategia digitale dell'amministrazione pubblica inoltre andrebbe meglio chiarita la ripartizione di competenze tra Agenzia per l'Italia digitale e Ministero dello Sviluppo Economico e entrambi titolari di funzioni destinate a incidere sulle strategie per il perseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea diventa quindi necessario e urgente dotare l'ordinamento di indicatori quantitativi di valutazione dello Stato delle politiche dell'innovazione in Italia e sulla loro attuazione così come di una generale riorganizzazione del governo delle politiche della digitalizzazione e dell'innovazione come ha scritto Maurizio Menzi docente di diritto dell'informazione e della comunicazione alla Luis Guido Carli l'evoluzione tecnologica ha inciso profondamente non solo sulle modalità di interazione fra cittadini e amministrazioni ma sulle caratteristiche dei vari procedimenti amministrativi imponendo la necessità di ridefinire le loro sequenze in funzione dei tempi e degli obiettivi previsti riducendo alcune rendendo superflue altre non è sufficiente convertire in modalità digitale procedure e sistemi ma occorre ricalibrare gli stessi per evitare adempimenti controlli inutili valorizzare l'interoperabilità snellire e rendere più efficienti le varie fasi utilizzando al meglio per esempio le applicazioni dell'intelligenza artificiale che sono sempre più impiegate nei settori di sanità mobilità giustizia sicurezza e ambiente questo comporta un'azione educativa capillare diffusa rivolta a cittadini e imprese per costruire un ecosistema basato su trasparenza fiducia reciproca responsabilità è molto complesso quindi valutare i centri di spesa prendiamo un esempio 800 milioni in 5 anni per l'intelligenza artificiale sembra una grande cifra in realtà è un'inezia colleghi rispetto ad esempio agli stanziamenti di Francia e Germania che superano il miliardo di euro l'anno dalla relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni istituita nella scorsa legislatura la diciassettesima è emersa la raccomandazione la raccomandazione di istituire una commissione parlamentare permanente dedicata all'innovazione nel suo complesso su questo siamo stati tra i primi a presentare una proposta di legge per introdurla andando ad aggregare competenze ora diffuse se non frammentate tra diversi flussi di lavoro delle commissioni permanenti ci sono su questo anche delle proposte da parte della maggioranza invitiamo quindi la presidenza a prendere in considerazione questa ipotesi nell'ottica di innovare appunto il Parlamento la proposta è quindi quella di una bicamerale dell'innovazione di cui Fratelli Italia si è fatta tra i primi proponenti la debolezza delle politiche per la digitalizzazione evidenziata dal basso gradino in cui si trova l'Italia nell'indice DESI va quindi superata con un cambio di paradigma una rivoluzione copernicana che può passare solo da un'infrastruttura normativa nuova che possa adattare anche i documenti di bilancio a necessità del nostro tempo ne va della nostra sovranità digitale colleghi le grandi piattaforme digitali le cosiddette nazioni digitali non possono essere trattate alla stregua di soggetti di diritto privato devono essere regolamentate come abbiamo chiesto più volte in più sedi anche con una proposta di legge e avere una tassazione adeguata ed equa la famosa web tax che tuteli anche il nostro circuito editoriale nazionale non exiguum temporis abemus sed multum perdidimus non abbiamo poco tempo ma molto l'abbiamo perso lo diceva Seneca dobbiamo avere chiara la politica per l'intelligenza artificiale sugli over the top sugli algoritmi sulla loro regolamentazione sulla banda larga sui computer quantistici tutto questo per fare in modo finalmente di far risalire l'Italia la nostra nazione rispetto a quegli indici per cui la posizione in cui è ora l'Italia è veramente umiliante quindi ci appelliamo alla maggioranza con cui ci sono dei punti di convergenza sul testo e al governo perché si faccia di questa occasione un'occasione di sintesi alta e significativa per il futuro digitale dell'Italia che è di questo